Ciao a tutti e bentornati sul mio canale, oggi voglio mostrarvi un video creato da Daniele, mio cliente, con le action figure di Kong e Godzilla della NECA. Per chi volesse seguirlo lascio in descrizione il suo contatto Instagram. Buona visione e alla prossima, ciao! I need to kick the habit that my mind is breathing in Break out, I've got to see Spent all my life holding all of it closely Outplayed it in a sense, a feel of discontent I'm finally facing it all, fearless Fear 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti